Saresti disposta con il nuovo senso di marcia da venire a prendere la pizza da me, partendo dalla zona del circolo e a venire, dovendo passare da dietro, arrivare fino alla scuola e poi venire su. Mi sembra una cosa illogica, ci avete proprio tagliato fuori da tutto il giro che c'era prima. 1300 macchine che passavano prima, a zero che ne passano oggi sono tanti. Consideriamo anche 100 euro al giorno, per 30 giorni sono 3000 euro, che vengono a mancare nelle casse nostre. È la stessa osservazione fatta da tutti gli operatori commerciali di Via Prima Strada a Bellocchi di Fano, dove lunedì 2 maggio è stato istituito un senso unico di marcia sul tratto che va dalla rotatoria Via Quinta Strada. La principale via della frazione per circa un mese dovrà essere percorsa in direzione di marcia a Flaminia Ocean. A giugno poi l'amministrazione comunale trarrà le conclusioni e deciderà se ripristinare la viabilità precedente o al contrario mantenerla con queste modifiche. Avete raccolto delle firme due settimane fa, per quali motivo? Sì, noi abbiamo raccolto delle firme il 18 aprile in merito a questo cambio di senso di marcia, l'abbiamo presentata in comune all'assessore Fanesi e messa a protocollo con tutte le firme da parte dei commercianti che erano contrarie a questa risoluzione del problema. Ancora non mi hanno ascoltato? No, sono partiti con le loro idee e sono andati avanti. Anche il cambio che è stato fatto, pensavo che un avviso migliore ci veniva esposto. Invece, così, siamo arrivati ieri mattina senza essere al corrente che boom, c'era questo cambio drastico. Qui ci sono delle attività che lavorano, pagano le tasse. Già è difficile tenere sulle attività con i costi che ci sono oggigiorno. Senza stravolgere la viabilità, gli esercenti avrebbero voluto rifacimento dell'asfalto e più controlli da parte dei vigili urbani, quelle dovute multe a chi parcheggiava in divieto di sosta. Sono d'accordo, invece, con la deviazione apportata per gli autobus che ora fanno un percorso diverso. Lamentano, inoltre, il fatto che qualcuno non rispetta i divieti appena messi. Per questo speravano nella presenza della polizia locale, almeno per i primi giorni del cambiamento. E invece nulla. Guarda, abbiamo aperto stamattina. La prima cliente già ha trovato difficoltà, perché è arrivata in quinta strada, non sapeva dove girare. Ovviamente, nonostante vuol dire abita qui vicino, però tanto questo giro che devi fare, io per arrivare qui devo fare il giro uguale e comunque c'è meno gente. Il disagio c'è? Di solito il via vai qui c'è, anche perché tanto il disagio è laggiù, al circolo non è qui. E quindi non ha senso. Secondo me dovrebbero mettere i divieti, il divieto di sosta e i vigili devono fare le multe. Non serve a niente fare senso unico qua. Il divieto arriva fino alla sua farmacia? Il divieto arriva fino alla farmacia, sì. Chiaramente crea delle difficoltà alle persone, soprattutto anziane, che non riescono più ad accedere al servizio. I nostri clienti si sono lamentati del fatto di fare il giro dietro, tornare avanti, poi parcheggi, parcheggi andosi nel mezzo. Io vado a fare la spesa lì, dovrei fare tutto il giro. Adesso sono andata in farmacia e l'ho fatto sto giro, ma che lo faccia ogni momento, no? Perché?